Seguire Gesù significa avere a che fare con tanta forza, tanta speranza, tanta pace e tanta gioia. Ma sì, c'è sempre un ma. Ogni tanto ci dimentichiamo di Lui perché ci distraiamo, perché non ci interessa, oppure perché tiriamo fuori il peggio di noi. E tirare fuori il peggio di Lui non ci rende grandi discepoli di Gesù e ci fa rovinare un po' il nostro aspetto. Noi, i bellissimi figli di Dio, diventiamo un po' bruttini. Arroganti, cattivi, pieni di parolacce magari. E alla fine finiamo che di Gesù resta poco. È come se lo svendiamo, lo diamo via. Non ci interessa. Sapete chi fu un altro che vendette veramente Gesù? Fu uno che combinò un grande guaio, Giuda, che si fece dare trenta monete d'argento per dire ai capi dove Gesù andava a pregare perché così lo potessero arrestare nel cuore della notte. E visto che le guardie rischiavano di non riconoscere, conoscerlo, Giuda disse, colui a cui darò un bacio, quello è colui che dovete arrestare e così faranno. Insomma, Giuda ha dimostrato che Gesù lo si può dar via per poco. Sapete che anche il grandissimo San Pietro combinò un guaio e quando gli chiesero, tu sei un discepolo di Gesù? Lui per paura disse, no, assolutamente. Rinnegò Gesù. Ma alla fine dei conti Pietro rimediò e cominciò a seguire Gesù una volta risorto anche con tantissima forza, insegnandoci che sì, tutti possono sbagliare, ma San Pietro ci insegna che tutti possono rimediare con l'aiuto del Signore. Anche per questo c'è il sacramento della riconciliazione, il cui primo punto però, quando andremo a confessarci o quando andiamo a confessarci, è che ci sia la contrizione, che è l'essere veramente dispiaciuti di un peccato. Se non si è dispiaciuti, il Signore non può perdonarci. Se si dice, ho rubato ridacchiando, beh, non si può essere perdonati. E poi dopo la contrizione serve confessare i suoi, i propri peccati, cioè dirli, soprattutto davanti al sacerdote, che in virtù del sacramento diventa come l'orecchio e la bocca con cui Dio ci ascolta e ci fa aggiungere la sua benedizione. Confessare i propri peccati, dirli, significa diventarne responsabili. E poi? E poi serve la soddisfazione. No, non significa essere soddisfatti perché abbiamo combinato un sacco di guai, ma significa rimediare ad ogni anno fatto, per cui ogni confessione diventa piena quando rimediamo al male che abbiamo fatto. Se abbiamo confessato di aver risposto male ai genitori, dovremmo chiedere scusa a loro. Se abbiamo confessato di aver detto delle bugie, dobbiamo cercare di non dirle. Se abbiamo preso qualcosa, lo restituiamo e via dicendo. Il sacramento della riconciliazione, quindi, ha bisogno di queste tre cose, la contrizione, la confessione e la soddisfazione.